Siamo con il presidente del Giuliano Femminile, Mario Grimaldi. Sta promuovendo alla società questo importante memorial per ricordare Raffaele Aprovito. Sì, io credo che le persone che comunque hanno contribuito allo sviluppo e anche alla crescita di un territorio non vanno mai dimenticati. Questa è una di quelle persone che ha contribuito tanto a questo paese anche da un punto di vista sportivo. E quindi noi vogliamo ricordarlo il giorno del suo compleanno con una giornata interamente dedicata allo sport. Con questa manifestazione vogliamo dare anche lustro alle realtà locali da un punto di vista associativo. La squadra femminile del Fuzz al quarto, poi ci saranno altre associazioni come quella di patinaggio artistico, ginnastica ritmica e ginnastica artistica. Abbiamo scelto questa data proprio come ricorrenza del suo compleanno perché il 12 aprile è il suo compleanno e quindi abbiamo deciso di festeggiarlo in questo modo. Allora vi aspettiamo tutti quanti il 12 aprile al Palazzetto dello Sport di Via Pigna alle ore 20. Ci sarà una bellissima giornata di sport e vi aspettiamo in tanti, mi raccomando non mancate.